Vuoi acquistare crediti o FIFA points a prezzi bassissimi? Allora passa da golda.com con il link in descrizione e in più con il codice Justiz avrai un ulteriore sconto Buona prima ragazzi, qui è Justiz e oggi siamo tornati con questo unissimo video Andiamo ad aprire le ricompense, i premi del FU Champions di questa settimana Quindi lasciate subito un bel mi piace anche perché sono arrivato di nuovo a fuori classe Quindi tanta roba, vi faccio vedere al volo il team of the week Ma sicuramente saprete che c'è Neymar, c'è Ronaldo, c'è Berratti, c'è Podolski, record break, c'è record break, Iro Che non so se possiamo trovare in realtà perché quello in teoria sarebbe un pacchetto IF Però sta nel team of the week, non lo so, fatemelo sapere ma ormai, vabbè, insomma fatemelo sapere perché non so se lo troverò Oppure, vabbè, insomma, più tutti questi qua, io vi dico già che secondo me troverò o Darida, sicuro Tosun, Demse, insomma troverò la merda Però noi ci crediamo fino a fine, a me mandrebbe bene anche un Schurle, Piszczek Non dico Ronaldo e Neymar che sono impossibili a trovare, soprattutto nel pacchetto da 3 IF Però un minimo, un minimo, un minimo Andiamo regà, lasciate like, sono veramente euforico ma lo so che non troverò nulla Già lo so perché dopo la scorsa volta dove avevo tantissime aspettative e poi ho trovato la merda So già che faranno schifo come tutti i pacchetti di FIFA, quindi non cambia assolutamente nulla Fu Champions Weekend League fuori classe 3 70.000 crediti, un pacchetto giocatori rari maxi e un pacchetto premium squadra da settimana Facciamo un conto di quanti crediti ci dà in totale come premio Quindi per ora siamo a 70.000 Facciamoci un conto giusto per curiosità Sto anche a mezzo milione di crediti, quindi qualche modifica alla squadra si può fare Vi faccio vedere a proposito al volo la squadra che ho usato perché è leggermente cambiata Ho fatto il triangolo della Roma che poi in realtà è un po' perché c'è pure Scesni Perché regà non mi trovavo, cioè, da lì a lì non mi dava quella sicurezza che cercavo Smalling e il walker erano fortissime e sono fortissimi Però a lì non mi dava quella sicurezza Mentre Nainggolan è proprio bestia Cioè l'ho pagato tanto, ho pagato 640.000 ma mi copre tutto il campo e quindi una bestia Quello che mi piace il meno è Scesni, quindi devo vedere se prendereci mai con leggenda Però non ci soffermiamo su queste sottigliezze e andiamo perché sono carico, sono euforico Yes boss, te prego, non ti dico Ronaldo e Neymar perché è impossibile Magari dammeli insieme, no vabbè Però un minimo, un Pischek, un Shurle, qualcosa di decente, un po' di crediti, giusto un po' di crediti, dai Andiamo prima col pacchetto da 100.000, non troverò nulla quindi dai, però vai Vediamo un po' se è walkout, non è walkout, ok, ottimo, ottimo, ok Ah, 82, wow, iniziamo alla grande Cioè se questo, oddio, oddio, cioè ti pare 82 in un pacchetto da 100.000? Ma stiamo scherzando? Regà se queste sono le premesse direi che Ah, anche oggi si scula domani Porco 2, cioè regà non ci credo, dai Siamo seri E qua chi cazzo tengo io? Chi c'è che può valere un minimo, un minimo di... Cioè ma neanche lo voglio sapere, ma andate via Quindi questo pacchetto è veramente tutto da buttare, quindi non abbiamo fatto il conto Quindi vabbè, 15.000 crediti di scartaggio pacchetto Tra i giocatori che mi sono tenuto e quelli che ho scartato Quindi siamo a 85.000 crediti Sta tutto registrando, sì, ok, non facciamo scherzi, va bene Non li guarderò, regà Non lo guarderò questo pacchetto perché voglio trovare... Non troverò nessuno, regà, già lo so, già lo so Begiamo un po' d'acqua in assoluto Idratati e freschi per trovare la merda, già lo so Però, regà, io non lo guardo Ti prego, ti prego, ti prego gli esports Ti prego, una volta nella vita, una volta Dammi qualcosa di buono nei premi del full champions Una volta nella vita, una volta solo ti chiedo Non sempre, non tutte, una volta, una volta 3, 2, 1 Vai, regà, io non guardo Non voglio sapere chi c'è Porco 2, mi sto a cacare addosso Il mio sudore non andrà spiegato Rispetto per tutti, paura di nessuno Ti prego, ti imploro Vai, PISCHECK Va bene, va bene, va bene Non mi lamento, mi va bene, mi va benissimo Mi va benissimo Mi va benissimo Mi va bene, va bene Che altro c'è? Ve l'avevo detto che l'avevi trovato questo stronzo PISCHECK Non, va bene Mi frega un cazzo Non è Ronaldo, ma non sarebbe mai stato Ronaldo 100k, li vale 100k Dimmi che li vale 100k Forse 100k li vale E dai che va bene Dopo il pacchetto della scorsa settimana 97.000 crediti e 500 E' tanta roba E' tanta roba Ora vediamo Tosun Se per qualche strano motivo vale qualcosa Non vale un cazzo E l'altro Mazza che merda 10.000 Mazza 2 da 10.000 Diciamo che li tengo per L'SBC del Leaf Garantino Nel caso mai uscissero Regà, 100k Quindi in realtà Siamo a 185k Certo non è proprio il top Certo non so se mai lo venderò Regà, io vi ripeto Mi accontento Meglio della settimana scorsa sicuro Non puntavo a Ronaldo e Messi Perché saprò già che era impossibile Però Va bene Mi accontento Lasciato a me mi piace Oh Dai quasi 200k Considerando anche il Leaf Che abbiamo tenuto nel club Sono 200k Quindi dai 200k Ci posso pure stare Ci posso pure stare Ci vediamo alla prossima Vi ringrazio con sempre Buona visione Ciao